buongiorno buongiorno oggi è martedì 26 febbraio la segna stampa in breve di video 33 nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione cielo nuvoloso sull'intero territorio alto a tesino e trentino le nuvole portano ad un sensibile aumento dei valori minimi valori massimi oltre la media delle ultime settimane in regia massimo moro col suo aiuto andiamo a vedere innanzitutto quello che accade questa mattina intorno alle 6 30 a poca distanza dal bolzano siamo sull'alto piano del renon vedete le nuvole più che evidenti all'orizzonte in arrivo sul nostro territorio andiamo a vedere con la grafica quali sono le previsioni per la provincia di bolzano zero gradi nel capoluogo e a merano come minima 17 gradi a bolzano come massima addirittura 18 gradi a merano e 14 gradi a vipiteno ancora più caldo in provincia di trento nel capoluogo avremo 19 gradi nelle ore centrali 21 gradi a riva del garda e ad ala 17 gradi a fiera di primiero andiamo a vedere quali sono le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola la stampa locale il corriere dell'alto adige regione torna il sesto assessore il parlamentino della stella alpina vota il dietro fronte ballottaggio tra de hegel a durner mattei è fuori il quotidiano trentino giro di vite sui bracconieri legge trentina con sanzioni più severe via la licenza per cinque anni sempre in provincia di trento il quotidiano l'adige le stazioni saranno blindate si parla di sicurezza in arrivo i tornelli ad ala roveretto e trento torniamo in provincia di bolzano con il quotidiano l'alto adige piazza erbe stop al caos bolzano giro di vite sulla movida in centro città per la cronaca in inguateresca il quotidiano tagge zaitung si parla di sicurezza lungo i sentieri dopo una tragedia consumatasi in tirolo costata la vita ad un escursionista attaccato da un animale lasciato libero al pascolo il quotidiano dolomita in derica spazio in apertura invece alla formazione del governo regionale con le decisioni della stella alpina andiamo a livello nazionale il corriere della sera vince il centrodestra caos 5 stelle siamo in sardegna lista movimento 5 stelle sotto il 10 per cento salvini dice siamo 6 a 0 sul partito democratico la cronaca dedicata alle buone notizie la buona economia è green impresa mobilità finanza turismo essere sostenibile necessario e anche vantaggioso il sole 24 ore il premier conte dice l'italia deve correre intervista al capo del governo il governo vuole mettere il turbo al paese sul fronte delle infrastrutture è tutto in chiusura come sempre gli appuntamenti da non perdere prosegue fino alla giornata di domani la fiera a carrara dedicata al mondo dell'hotel e della gastronomia il primo di marzo musica tradizionale tirolese presso birra forza a lagundo il 3 di marzo occhi su ghiaccio tra bolzano e salisburgo l'8 di marzo bolzano incontro a vienna sempre per occhi su ghiaccio e il 10 di marzo partita di calcio tra sui tirol e giana erminio è veramente tutto io vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33